Il flash ti sembra complicato? Hai un flash ma non sai come utilizzarlo? I risultati che ottieni utilizzando il flash ti deludono? Ti piacerebbe finalmente imparare ad utilizzare il flash e a saperlo gestire in ogni circostanza? Se hai risposto sì, permettimi di presentarti il corso Master Flash. Master Flash è un corso completo, pratico e semplice per imparare ad utilizzare il flash. Nel corso imparerai a come usare il flash sia in automatico sia in manuale. A come usare il flash staccato dalla fotocamera. A come bilanciare la luce flash con quella ambientale. A come usare le gelatine colorate per una luce perfetta. A come usare la modalità stroboscopica. A come usare il flash con diaframmi molto aperti e luminosi. A come usare il flash nella fotografia del ritratto. A come usare più flash contemporaneamente e gestire il contrasto. Scoprirai quali sono gli accessori fondamentali per sfruttare al 100% il tuo flash. E tanto tanto altro ancora. Iscrivendoti riceverai più di 10 ore di video lezioni. Tutto il materiale didattico. E tutto il materiale potrai scaricarlo sul tuo computer. E guardarlo senza limiti di tempo. Se sei interessato quindi vai sul sito www.fotografiafineart.it Alla pagina corsi di fotografia e appunto Master Flash. Se già sei sulla pagina Master Flash. In fondo puoi scegliere la promozione più adatta per te. Se invece stai guardando questo video da YouTube. Vai in descrizione al video stesso. Troverai il link che ti porterà alla pagina del corso. Ti aspetto all'interno del corso. Ciao. Ciao.